Vabbè animali, voi veramente non vi rendete conto di cosa mi avete mandato, cioè veramente guardatevi tutto il video e ascoltate la sfida che vi propongo così facciamo gli scherzetti. Buona visione! E bella a tutti ragazzi e ragazze, sono Anime, bentornati! E in questo nuovo video oggi finalmente siamo qua per lo spacchettamento dei vostri regali del video game show, cioè sono una caterva. Con sta roba ci puoi costruire un villaggio in Bangladesh, casalla postale che trovate sempre in descrizione. No, detto così è brutto Oltre sotto di me C'è una descrizione Benissimo, sediamoci Come farebbe papà Castoro Ovviamente cercherò di aprirla il più veloce possibile Perché sono, penso, troppe cose Una scatola No Bambino, il duaggino, guaggono voi Ok, ma un altro che aggiungo alla mia collezione di cappellini Grazie mille Alessio Cossu Ah, qua ovviamente c'è anche la foto mia e sua Molto sexy Cos'è sta roba? Non potevo leggere, prima È arrivata sul soffitto, è arrivata Schiuma, non è un giocattolo Non è spruzzare assolutamente negli occhi Su persone vestite a muri No Ah, quindi praticamente questa è quella che fa E la usa a carnevale Anzi, se volete ragazzi, uno scherzo mia mamma Superiamo il 25.000 mi piace in sto video Che altro mai regalato? The Sims Pure un DVD Ma l'hai rubata sta roba Una pistola Tug Life Buono figo Un led Uno scheletro Una moneta Biella al battistero Autolavaggi Benissimo, grazie mille Alessio Trovo veramente, mi hai fatto un pacco enorme Lo dico sempre male, queste cose Un peluche Non capisco se è una scimmia o un orso È un scimmiorso Dove poi ragazzi è il simbolo del cane, è lo scimmiorso Ma giuro non riesco a capire cos'è Boh È troppo morbido Non esplode, sicuro Ucciderò tutto ciò che ami No, aspetta Pensavo fosse un tagliere e una mannaia Perché mi regal... Tu hai vinto tutto Ma che cazzo è? Sarà di qualche film Boh Ovviamente c'era anche la parrucca Ecco che mi son dimenticato Cioè ma hai fatto un mega regalo zi Voilà Porca ondas Le caramelle Da Leonardo e Naufel Ah sto iniziano ad amarvi Veramente Cioè qualcos'altro Una calcolatrice Ma un telecomando che esplode E ci vediamo al prossimo video Un biberon gigante Cosa c'è dentro? Un pene Ha un altro marshmallow Le gammi black Che però la ricorice mi fa croccantelle Oh no vabbè così si Ah 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 Teribile Queste qua son buonissime Però grazie comunque A chiunque Abbia avuto l'idea del Mega biberon Basta Tanto se lo faccio casino nei miei video Non son contento Ma basta Ovviamente ho perso il taglierino Vabbè la apro con la forza del pensiero Ok Voila E madonna Un quintale Aia me ne sono andato su un piede Ok Cioè ci parte subito Meno male che non c'era il cibi dentro perchè sennò Lo spaccavo E sta roba cos'è? Per Anima Da Luca Poletti e Stefano per Tile Un piccolo pensierino per te Anima Ma che cazzo è una stampante? Perchè mi inviati pezzi di stampante? Ma c'è tipo un neo qua Se è un neo vabbè un neon Le stampate con i nei Le ho inviato io Ok questa volerà in un video di fifa Un altro mi... Ah questo però non pesa niente Quasi vola da solo Il cartone ci mette le ali Ah Ah Chi vuoi prendere per il culo a zii Non ci sono qua le cuffie Volevi trollarmi eh Volevi farla bella la cosa ci mettevi dentro un mattone Non pesa niente Io pensavo mi trollassi E invece c'è dell'altra roba dentro Da Luca Stefano e Umberto da Legnano Copriamo subito No No Ragà il maiale Ecco cosa serve andare a scuola Per fare i maiali di qualcosa Yann mi ha regalato un maiale Di Minecraft No vabbè raga No questo lo incor... No ve lo giuro Questo non lo metto nello scatolone Questo lo appendo Stai ancora di colla Proprio fatto a scuola Il maiale di Minecraft Voi si che mi sapete colpire veramente al cuore Fragile più o meno non ho trovato una scatola migliore Ciala Ah tu dici perché c'era le barbie sopra Un piatto E' il miglior video del... Il miglior pacchini mostro della storia questo Questo ve lo leggo perché veramente Dato c'è GozAnima 99 La carta Ah bella anima mi chiamo Luca ho 15 anni Ti ho regalato un bel piatto da rompere Quando troverai un altro if O un giocatore che vale tanti money Spero ti piaccia Sei il miglior youtuber a cui sono iscritto Ho scritto FIFA 15 Pax Hai vinto tutto E va bene così Comunque animali Io direi di concludere qua Perché ci sono altri milioni di pacchi qua dentro E verrebbe un video lungo quanto la quaresima Già che siamo più o meno sotto Pasqua Quindi avrete la seconda parte dei pacchi prossimamente Mi raccomando 25 mila mi piace se volete Lo scherzo a mia mamma E noi ci si becca domani con un nuovo video Stay angry Stay animals Wuhuuu H